C'erano 600 balle di rifiuti legate con il fil di ferro, peso stimato 900 tonnellate, stoccate in questo capannone di smesso d'anni nella zona industriale di Asiliano. 3.000 metri quadri, un leasing che la ditta non aveva riscattato. Il capannone è di proprietà di un istituto bancario. A notare le porte semiaperte i militari della Guardia di Finanza di 90 Vicentina nel corso dei loro controlli sul territorio. In dubbio la provenienza di quei rifiuti. Da alcuni esami dei prodotti sequestrati, dei rifiuti, della documentazione rinvenuta all'interno di queste balle è stato rilevato una provenienza di Campania, Napoli, Caserta. Il dubbio è che il capannone possa essere finito in mano alla criminalità organizzata campana a caccia di edifici semiabbandonati al nord che sarebbero poi destinati a essere dati alle fiamme. Ai primi di ottobre il sequestro con la quasi contemporanea emissione di un'ordinanza da parte del sindaco di bonifica e svuotamento del capannone. Rifiuti di vario tipo, materiale plastico, tessile, rifiuti solidi urbani. I rifiuti non sono pericolosi per la salute della collettività, tuttavia il vero rischio è quello di un incendio degli stessi e quindi a quel punto la diffusione di fumi, in questo caso sì, potenzialmente pericolosi. Proprio in queste ore al via lo svuotamento del capannone, ma le indagini continuano. Non è il primo caso in provincia di Vicenza. A fine ottobre un capannone era stato individuato e sequestrato a Gambellara.